Sala da pranzo industriale, quattro arredi Maison du Monde Avers. Lo stile industrial arricchisce ogni casa con un mix di legno e metallo, per un look moderno e alla moda che cattura l'attenzione di tutti. Maison du Monde ha lanciato una linea dedicata allo stile industrial, per arredare la sala da pranzo con pezzi davvero imperdibili. La libreria Harvey, il tavolo Alfred, le sedie Multiples e la lampada Seattle sono i must-have della collezione industrial di Maison du Monde. Lo stile industrial non solo decora con eleganza, ma promuove anche la sostenibilità con materiali certificati, guardando al futuro del nostro pianeta.